Penso di essere un giocatore delle versate, cerco di dare una mano più in attacco che in difesa, ovviamente preferendo la parte offensiva del gioco. Ovviamente i miei obiettivi sono sempre quelli di farmi trovare pronto contro la squadra che non ha bisogno. Essendo un gruppo nuovo, uno da dieci giocatori che provengono da diverse società, non avendo mai giocato insieme cercheremo di fare il meglio per agrirti su Roma. È stato un inizio un po' movimentato, cerchiamo di fare il massimo apprendendo molto da queste amiche Evoli per farci trovare pronti ovviamente a 4 ottobre, l'inizio del campionato. Il nostro rapporto è come un freddo maggiore, quindi sono felice di starci ancora insieme. dopo essere stato a Roma per 4 anni, mentre sono andato in Barcena Pozzo di Cotto e tornare qui è sempre un piacere. .